ciao ragazze eccomi di nuovo qua con un nuovo filato che vi devo fare vedere assolutamente violino di silke by arvie e allora siamo sinceri io l'ho scelto solo perché si chiama violino no scherzo a me è piaciuto tantissimo perché ha delle sfumature pazzesche allora violino di silke e un filato fantasia composto al 60 per cento di acrilico 28 per cento di lana 12 per cento di alpaca di nuovo abbiamo il mix di alpaca lana e acrilico questo mix rende i filati in alpaca più resistenti perché normalmente i filati in pura alpaca tendono ad allungarsi tantissimo con il lavaggio con il porto con il peso avendo invece una buona percentuale di acrilico dentro otteniamo il vantaggio che il capo mantiene la forma in più abbiamo comunque una buona percentuale anche di lana quindi riusciamo ad ottenere capi caldi ma anche diciamo comodi utilizzabili non che ci danno poi noia perché magari con il tempo non non sapendo li trattare bene si allungano e abbiamo fatto un lavoro sprecato è un filato made in italy e vediamo qua che con un solo gommitolo anche qui riusciamo a fare un bactos e con due riusciamo a fare una maglia per noi il gommitolo e da 150 grammi per 300 metri e i ferri suggeriti vanno dal 6 e mezza al 7 e mezza per l'uncinetto sicuramente dobbiamo partire con l'uncinetto numero 6 se riusciamo ad avere un uncinetto numero 8 va benissimo il campione ci dà con i ferri del 7 11 maglie per 16 ferri per ottenere i 10 per 10 centimetri sicuramente questo già ci indica che con questo filato riusciamo a lavorare velocemente capi per noi perché il lavoro crescerà in un batter d'occhio possiamo lavorare il filato violino in lavatrice a 30 gradi il lavaggio delicato e anche qui possiamo usare la centrifuga a 400 gradi ecco perché vi dicevo che l'alta percentuale di acrilico in questo caso ci torna molto molto comodo qui abbiamo uno delle sfumature più belle questo sfumato sul ottanio bordeaux grigio vedete con questa torsione morbida del filo un altro colore stupendo e questo arancio con i colori quasi fluo che poi vanno sul mattone molto bello e sono queste le sfumature che si ripetono su tutto il filato e non è che poi ci sono altri colori che magari sono nascosti dentro al gommitolo no qui abbiamo un giallo neon con qualche punta di rosso vedete che poi qui si confonde con il sfumato rosso fucsia e grigio e qui abbiamo anche delle sezioni di verde neon verde lime ecco è un colore lime ok andiamo a vedere il prossimo colore questo è un pochino più calmo più classico il blu sfumato grigio questo va benissimo anche per i maschietti e poi il pezzo forte l'ho tenuto per ultimo abbiamo questo stupendo viola senape in video qua sembra quasi un po più giallo acido ma andate a vedere la foto che ho messo sul sito perché è uno stupendo senape quindi un po più scuro un po più sull'arancio meraviglioso meraviglioso davvero questo proprio è bellissimo va bene cosa possiamo realizzare con violino possiamo fare maioni sharp cappelli belli caldi scaldacolli mantelle cardigan veramente di tutto andate a vederlo sul sito come sempre vi lascio il link sotto a questo video nella descrizione e vi ricordo che sono a vostra disposizione su whatsapp al numero 339 e scusate 33 498 94 728 violino a me ha ricordato i capricci di paganini quindi fatemi sapere se amate la musica classica e buon uncinetto a tutte ci vediamo prossimamente con nuovi progetti il tutorial ciao